Providenziale intervento dei metronotte della società La Sicurezza di Gela che sono riusciti a mandare in fuga i malviventi evitando un furto ingente. E' quanto accaduto la scorsa notte intorno alle 3.50 in Corso Vittorio Emanuele, nei pressi di Piazza Martiri della Libertà. I gnoti hanno preso di mira il negozio di abbigliamento Martellino. Utilizzando una grossa mazza hanno tentato di sfondare la vetrata dell'ingresso principale, ma alla vista dei metronotte si sono dati alla fuga. Sul posto si sono recati i carabinieri del locale reparto territoriale. requisite le immagini delle telecamere collocate nella zona. E sempre i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della stazione, nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale finalizzati al contrasto del fenomeno delle stragi del sabato sera, hanno segnalato alla prefettura di Calzani-Setta 10 giovani per uso personale di sostanze stupefacenti. In particolare i militari dell'arma impegnati nei controlli presso la stazione ferroviaria, la zona di Piazza Sant'Aquestino, la via Rossini e il Corso, hanno sorpreso 10 gelesi, di cui 4 minorenni, in possesso di droga. I controlli sono scattati venerdì pomeriggio e si sono protratti fino alla notte di sabato. In Piazza Sant'Aquestino i militari hanno controllato al suo interno se i cittadini e gli esercizi pubblici presenti rispettassero quelle che sono le prescrizioni previste dalle leggi nazionali e dalle ordinanze comunali. Controllate 207 persone, perquisiti 32 soggetti, fermati 114 tra autoveicoli e motoveicoli ed elevate 27 contravenzioni al codice della strada. In particolare sono stati sequestrati 8 tra autovetture e motocicli, sia per mancata copertura assicurativa, sia per il mancato uso del casco protettivo. Il controllo del territorio, anche in questo caso, sottolinea una nota dei carabinieri, ha dimostrato la sua efficacia nel contrasto all'illegalità, considerato che si è riusciti ad intervenire ristabilendo l'ordine e la sicurezza pubblica in delle zone della città, come il centro storico e la zona della stazione ferroviaria, colpite dal degrado che duramente infierisce su quei cittadini che serenamente vorrebbero godersi le svariate bellezze offerte dalla città.